Il Stato c'è, io lo dico sempre, c'è in tantissime forme, anche con la presenza intanto capillare sul territorio dell'Arma dei Carabinieri nei comuni più piccoli, ma della Polizia di Stato in quelli più grandi e della Guardia di Finanza con cui lavoriamo in strettissima sinergia. Oggi ricordiamo un evento tragico, uno dei tanti, purtroppo in questa nostra bellissima terra di Sicilia ma martoriata da troppi eventi negativi, questa strage che penso ognuno di noi ricorda bene perché è una delle tante tappe di tutto questo sangue che è stato versato. Quindi è giusto ricordare, è giusto che anche un comune piccolo, dove questa persona è nata ed è cresciuta ricordi con questi momenti di intensa commozione, ricordi questi eventi. La memoria è un fattore imprescindibile della nostra società. L'Arma dei Carabinieri si rinnova nel sacrificio di chi ha donato alla patria la propria vita per valori che sono quelli della libertà, della giustizia, della verità. Salvatore Bartolotta insieme al giudice Chinnici è uno di questi martiri di coloro i quali sono stati trucidati dalla mafia in un momento in cui si stavano portando alla luce verità importanti e nello specifico si stava parlando del generale della Chiesa. Oggi lo ricordiamo, in realtà noi lo ricordiamo tutti i giorni, tutti i giorni ricordiamo i nostri caduti, tutti coloro i quali hanno reso l'Arma dei Carabinieri e l'Italia il paese che è adesso. È da 38 anni che si ricorda questa data, attraverso diverse iniziative, con la borsa di studio appuntata a Bartolotta, che è un giorno della legalità per Castropilippo. Noi come amministrazione abbiamo dedicato una scalinata dedicata alla memoria di tutte le vittime di mafia e proprio dedicata all'appuntato a Bartolotta.